Musica Musica Nuovo appuntamento estivo con Nego Su Bianco, caro Piero Franchini, buonasera. Buonasera. Siamo tornati a Ponte Buriano per vedere come stanno procedendo questi lavori della seconda fase del restauro, ma ci occuperemo anche della viabilità, di quello che sarà il futuro della viabilità e poi faremo il punto con alcuni servizi, visto che si parla tanto di ponti, purtroppo in questo periodo siamo andati un po' in giro in alcuni di questi ponti che sono stati citati anche dal dottor Cardinali nella famosa intervista al quotidiano La Nazione. Allora, io comincerei di nuovo con l'architetto Pierangelo Casini che salute e ringrazio davvero di essere tornato. Buonasera, buonasera. È stato chiarissimo la precedente volta nello spiegarci. Allora, a che punto siamo? Che cosa si può dire? Dunque, noi abbiamo iniziato i lavori, dobbiamo smontare tutta la parte dei rostri. Se venite qua vi faccio vedere un attimo un po' l'intervento che stiamo facendo, anche in base a quello che è stato l'intervento passato. Noi dobbiamo smontare, abbiamo visto che c'erano le problematiche che avevamo riscontrato nella parte del rostro 3 e le abbiamo ritrovate anche negli altri rostri. Noi stiamo smontando tutte queste parti qui della punta del rostro e come abbiamo fatto per il rostro numero 3 stiamo ricostruendo le modine di legno, tutte queste modine di legno che voi vedete qui, queste sono pietre, il calcolo delle pietre, per ricostruire tutte le punte. Perché il problema di questi rostri è che gli mancano le punte e quindi i collegamenti del rosto. A questo punto, come abbiamo fatto l'anno scorso, stiamo programmando la messa in opera di questa tipologia di intervento per le parti e per le cuspidi del rosto. Mettiamo questi diatoni del peso di circa 180 kg l'uno intervallati a questi elementi pentagonali, ora questa triangola manualmente sono pentagonali perché entro all'interno, del peso di circa 480 kg e in questa maniera creiamo un cantonale importante nel rosto. Quello che è interessante è riuscire a far capire che questi rostri sono un elemento importantissimo per la struttura del ponte da un punto di vista della tenuta del ponte perché diversamente dalle altre tipologie romane o romaniche questi rostri arrivano fino in cima e non sono riempiti solo in malta militare ma in terra. Nel momento in cui il rosto si apre e viene giù la terra si scarica l'arco e di conseguenza il ponte è inagibile sempre che non venga giù. Per cui per noi è importantissimo richiudere la parte da cui spiede il rosto e incatenarlo con le catene in maniera da contenere tutta la parte che si sta aprendo. Se venite un attimo con me vi faccio vedere alcune cose interessanti nel rostro numero 5 che abbiamo aperto perché abbiamo riscontrato anche in questo rostro una rotazione del paramento murario. Abbiamo svuotato il rostro in parte e abbiamo aperto la parte della muratura interna queste sono due murature la parte di rivestimento e la parte interna abbiamo aperto anche la parte interna perché era la parte che si stava ruotando. Qui siamo scesi nel rostro numero 5. La criticità di questo rostro era la perdita della parte di muratura esterna rimanendo solamente la parte interna. Nel momento in cui noi abbiamo aperto il rosto abbiamo tolto la parte sommitale e siamo venuti giù abbiamo riscontrato che parte di questa muratura era disgregata e iniziava a ribaltarsi. Abbiamo dovuto demolirla. Dopodiché, fatta questa demolizione, noi bisogna ricostruire completamente tutto il paramento murario. Se lei vede questa griglia che noi abbiamo disegnato in verticale è ridisegnata anche nei progetti e in terra. Smontiamo tutte le pietre e le posizioniamo lì nell'asfalto e poi ricostruiamo con tutte queste modine di legno le pietre mancanti che devono mantenere completamente la fisionomia storica e i fili, tutti i fili che ci sono in questa zona qui. Lei guardi, non è che possiamo fare un lavoro, come vede, non è che possiamo fare un lavoro dozzinale, è un lavoro certosino. Vede, tutti questi sploni dolci, noi bisogna andare a incastrare le pietre dentro. Quindi bisogna tagliare elemento per elemento così come è la realtà. Lei pensi che per ogni pietra non ci arriva il camion con i blocchi già preconfezionati? Noi bisogna tagliare uno per uno e incastrarlo in questa realtà. Cioè non è un lavoro semplice, oltre a doverlo incatenare. Tra l'altro bisogna bonificare anche la struttura da tutto questo apparato radicale. Queste soliti, come vede, le abbiamo lasciate apposta per farvela vedere, queste qui sono all'interno di tutte queste murature qui. Non possiamo utilizzare, essendo in un alveo e a ridosso dell'oasi, non possiamo assolutamente utilizzare prodotti che siano inquinanti o eccessivamente benosi. Per cui dobbiamo fare un lavoro di fino, dovendole smontare tutte e eliminandoli, anche perché queste sono deleterie quanto e più del traffico. Questa niente, ora la porto a vedere un'altra radice che veramente è qualcosa di eccezionale. Perché hanno radicato queste piante? Perché in tutta questa zona qui, dalla parte, diciamo, da metà dell'arco in su, è tutto riempito in terra e come vedi sono proliferati in maniera esponenziale ficai e altri tipi di arbusti. La spinta del terreno che abbiamo è notevole, anche perché questo rosso si collega direttamente con l'altro rosso passando per la strada. Nel momento in cui 12.000 veicoli, di cui il 25% pesanti, premono, c'è un continuo allentamento di tutta la struttura. Se lei vede, tutti i rostri hanno una lesione che parte dalla parte alta fino a due pietre sopra la buca pontaia. Tutte. Perché? Perché questa doppia muratura arriva alla buca pontaia. Beh, lì non si vede perché è stata chiusa, alla buca pontaia. Da lì, dalla buca pontaia in giù, è tutto malta militare, un unico blocco di cementizio, diciamo così, solidissimo. Dalla buca pontaia in su sono due murature riempite in terra. Ed è lì che infatti c'è la parte critica, dove si formano delle criticità dovute alla spinta del terreno. E noi, e sono queste criticità che stiamo eliminando. Perché? Perché se non eliminiamo queste criticità, il rostro si apre, la terra viene giù, l'arco si scarica e il ponte diventa inegibile. Una domanda sulla tempistica, nel senso, diciamo, ci saranno dei ritardi oppure più o meno sarà rispettata la TAP? Visto anche che adesso un po' sappiamo anche quali sono state le condizioni meteo. Dunque, allora, noi siamo vincolati al meteo, siamo vincolati all'Arno, abbiamo tantissimi vincoli. E il fatto è che dobbiamo fare un lavoro certosino. Noi in ogni caso, entro ottobre, novembre, bisogna uscire perché l'Arno sale. Da un punto di vista di appalto, noi siamo abbondantemente dentro i tempi. Perché sono 328 giorni di lavoro e noi siamo abbondantemente dentro i tempi. Siamo stati con tutte le problematiche che abbiamo riscontrato, tutto quello che c'è stato, noi siamo dentro i tempi. Chiaro, c'è il disagio dei cittadini che devono fare percorsi alternativi. Quindi, se è possibile, non appena abbiamo chiuso questi quattro rostri, rostro 5, rostro 3 e rostro 2, Montevalle. I resti dei rostri cercheremo di farli con il ponte aperto, ovviamente a un percorso idotto. Non possiamo farlo adesso perché abbiamo quattro rostri aperti in queste condizioni. Il traffico dovrebbe dire una vibrazione continua che allenterebbe questa porzione di terra che non ha più un paramento di contenimento. Quindi uno scarica l'arco e renderebbe il ponte negibile. Adesso noi vediamo un servizio che ci porta sulla I-45. Poi quando torneremo parleremo ancora dei risvolti del traffico perché abbiamo altri ospiti da sentire e poi magari continuiamo dopo. Mi piacerebbe farlo. Dopo ci andiamo. No, è una cosa interessante quella. A dopo. Vabbè, è certo che se uno passa su un cavalcavia ci pensa un attimo. Viene in mente la cosa. Poi abbiamo trovato dei lavori. Non so, per un tratto ci hanno mandato proprio su un cavalcavia e ci hanno mandato sulla strada normale. Non so per quale motivo. Però viene da pensare. Cosa ne pensa di quello che c'è? È un disastro. Penso che ci dovrebbe essere più controlli. Come si viaggia dopo i fatti di Genova? Voi insomma avete anche poi una responsabilità? Ma come si viaggia? Si viaggia uguale. I fatti di Genova potrebbero riguardare anche altri tratti dei nostri? Sì, sì. Sì. E spesso quando siamo in colonna ci si sente muovere quando siamo nei ponti. Devono farlo, però non lo so. Inizio a pensare invece di andare bene. Anche questa strada qui io tanto che non la faccio, però ci sono sempre lavori su questa strada. Ora mi tocca andare a Venna, vado a Venna. Ci sono dei ponti da fare anche qui. Sempre lavori. Va bene che questa non fa parte dell'autostrada, comunque dovrebbe essere un po' più controllata forse. Oddio, quando si passa sui viadotti il pensierino si fa sempre. Tutto qui. Io la faccio abitualmente questa strada, quindi comunque ci sono diversi lavori di manutenzione in corso proprio sui viadotti, quindi ci sono sempre stati e penso che non è. Ma comunque è quel tipo di ponta stralli che è più rischioso, che presenta maggiori rischi rispetto a questi viadotti normali, insomma. Anche qui ci sono state tante segnalazioni. Sì, però io lo conosco bene il percorso. Ho trovato sempre deviazioni proprio per presenza di molti lavori, e quindi non credo che questa sia una zona... Certo, il pensierino ci si fa comunque quando non si sta per affrontare il viadotto. Le strade sono messe malissimo, specialmente l'E45, tutta chiusa, tutti i lavori, si viaggia male. C'è sicurezza, secondo lei? No, perché? No, perché è pieno di buche, ti può scopiare una ruota con tutte queste buche, ti può... Cioè, un attimo qua, è molto stretta poi, questa strada qua, molto stretta, quindi è un attimo, ci vuole proprio un attimino a fare dei casino. Grazie. Ben tornati a Ponte Bughiano, allora abbiamo Lagoa Convertini e Antonio Berardini che sono consiglieri del Futuro Insieme, consigliere di ignoranza nel comune di Castiglione-Fibocchi, poi abbiamo il consigliere provinciale Donato Capogali, benvenuto. Grazie. Troviamo Carlo Fiordelli, dirigente della... Viabilità. Viabilità o traffico. Allora, vogliamo parlare del contenuto del vostro intervento che credo fosse un'interrogazione se non ricordo mai. proprio sulla cosiddetta diciamo viabilità alternativa. Ecco, quali sono i problemi? Volevamo specificare che il testo della nostra interrogazione proprio diceva che questo intervento era un intervento necessario ed importante. Questo è stato uno degli inizi della nostra interrogazione. Quindi comprendiamo bene qual è l'importanza di questo intervento anche perché è una delle viabilità che collega tutta la zona del Val D'Arno della Sette Ponte ad Arezzo. Quindi è un intervento molto importante. Noi chiedevamo maggiore attenzione sulla viabilità alternativa dello spicchio perché vi erano state grandi problematiche nella chiusura precedente. Non vi erano situazioni di sicurezza, non vi erano catari frangenti, la strada era molto stretta perché la viabilità alternativa non è individuata per supportare questo tipo di traffico. Quindi la nostra interrogazione chiedeva quello e chiedeva in un futuro di preservare questo ponte e di prevedere degli interventi successivi come un ponte alternativo. Quindi gli interventi che sono stati realizzati prima della chiusura di questo ponte sono stati sicuramente degli interventi molto risicati sicuramente per la riduzione dei fondi a disposizione che per poco hanno risolto la situazione in un periodo in cui non vi è alto traffico. Le maggiori preoccupazioni ci saranno quando si riapriranno le scuole quando tutti i mezzi ripasseranno in quella zona. Quindi noi chiederevamo maggiore attenzione su quella viabilità perché porta molti disagi a chi tutti i giorni deve lavorare ai ragazzi che vanno a scuola quindi che l'intervento fosse il più mirato possibile con le risorse a disposizione. Che ne pensi di questa valutazione? Allora noi come provincia di Arezzo abbiamo fatto una decisione e abbiamo preso questa decisione del restauro di Ponte Buriano sapendo che alcune responsabilità bisogna assumersele perché io credo che politica vada fatta assumendosi alcune responsabilità anche le critiche in una fase in cui delle risorse le province come sapete non ne hanno molte però poi il bravo politico il bravo amministratore deve ragionare in un sistema di priorità per noi la priorità è stata quella del Ponte Buriano di restauro abbiamo fatto il possibile con le risorse a nostra disposizione per l'adeguamento dell'infrastruttura alternativa secondo quello che erano secondo le possibilità nostre e in base alla priorità che ci avevamo dati che è quella appunto come dicevo in precedenza del restauro del Ponte Buriano che ritenevamo fondamentale questo sicuramente può causare dei disagi di cui siamo coscienti tra le popolazioni residenti e su questo ci siamo misurati abbiamo aperto una fase di confronto rispetto all'anno scorso abbiamo cercato appunto nei limiti delle nostre possibilità finanziarie un adeguamento per rendere i disagi meno gravosi possibile sulla popolazione e in conclusione abbiamo ritenuto comunque con forza lo ribadiamo che nonostante ciò il nostro obiettivo è quello di rendere il Ponte Buriano sicuro e di non avere problemi per il futuro con l'idea sicuramente e su questo chiediamo un patto territoriale a tutti gli enti coinvolti di trovare una viabilità alternativa ma non quella attuale ma quella costruzione di un nuovo ponte che conserva il Ponte Buriano dal traffico pesante altra riflessione da fare è quella che alla rapertura di Ponte Buriano forse è necessario anzi di questo sono sicuro ma poi la politica segue molte altre necessità di già dal momento dell'apertura chiudere Ponte Buriano e mezzi pesanti anche prima della costruzione del nuovo ponte dal mio punto di vista sarà possibile? Sarà possibile questo lo vedremo quando ci siamo visti l'altra volta dissi sbagliando si impara penso che per adesso la situazione non è quella dell'anno scorso lo scorso abbiamo dovuto fare i lavori abbastanza in velocità e velocemente in effetti abbiamo soltanto lavorato su due rostri e abbiamo accorciato il più possibile il tempo di chiusura del ponte sarà possibile se dobbiamo intervenire su questo ponte ci saranno altre chiusure perché chiaramente il lavoro non è finito qui ci vorrà di fare un altro stralcio e un altro stralcio ancora sicuramente ogni volta faremo delle migliorie sulla 56 perché questo non è possibile tenerlo a lungo tempo chiuso perché alternative proprio veramente credibili non ci sono e dobbiamo comunque dare il minimo di difficoltà a tutti gli utenti che frequentano questa strada secondo me come diceva il consigliere come abbiamo anche scambiato prima delle opinioni bisogna fare appunto un patto territoriale di questa zona per finalmente individuare la zona dove collegare il nuovo ponte senza fare voli pindarici ma facendo un ponte diciamo di guerra economico che comunque consente il collegamento tra Cuarata e Castelluccio io penso la situazione migliore sia questa la politica ha i suoi tempi poi i tecnici troveranno una soluzione senti anche Antonio Berardini sei soddisfatto di questi propositi sì no no l'importante era conoscere più che altro i tempi effettivi quindi non creare sulla popolazione attese dire delle date poi sono altre quindi conoscere più che altro riuscire ad avere una comunicazione sapere i tempi reali quali saranno sia per questa chiusura che per le prossime si sanno i tempi precisi in questo momento è quasi superfo dirli sicuramente ci sarà un allungamento rispetto a quelli che avevamo previsto sicuramente però cercheremo di lavorare e fare le cose nel minor tempo possibile questa è un'esigenza nostra e dei nostri utenti perché poi fondamentalmente sono i nostri clienti non c'è solo autostale per l'Italia che ha clienti ce l'abbiamo anche noi perché poi tra l'altro nelle strade regionali siamo gestori per cui cercheremo di comunque restringere al massimo questo cantiere io sono convinto che poco dopo l'inizio della scuola saremo in grado di riaprire questo qui al traffico almeno al traffico leggero david faltoni che te ne pare di questo intervento che era atteso io mi auguro che l'intervento sia portato a termine direi che questo prima di tutto è un monumento ha un valore storico e andrebbe preservato quindi io ora mi dispiace quello che dico magari è impopolare ma io credo che andrebbe chiuso prima che sia troppo tardi perché Genova ce l'ha insegnato e quindi prima che sia troppo tardi meglio fare sacrifici che perdere questo questo monumento perché io non credo io guardo la bellezza di questo scorcio di quello io penso che questo potrebbe essere veramente la ricchezza di questa vallata e ci vorrebbe coraggio ci vorrebbe la forza di dire ora non ci si passa poi la soluzione si trova e invece si continuerà con questi rammendi questi rattoppi la gente che si vuole la menta e quindi chiaramente la politica che vuole comprare il consenso non è che non ha il coraggio di fare delle scelte lungimiranti quindi lo farà riaprire ci ricontineranno a passare i camion e tutto in Italia andrà sempre nello stesso modo finché ahimè qualcuno non si trova in quel ponte ora fatemi fare una considerazione ma tutti i nostri potenti politici hanno detto che erano passati dal ponte di Genova mille volte anche qualche momento prima ma non ce n'è caduto uno dei potenti in quel momento eh no voglio cioè solo disgraziati mio non che io mi auguravo che non ci cadesse nessuno però ecco direi se finalmente comincia qualche potente a finire in Arno e poi le cose cambiano quindi io credo che il ponte vada chiuso perché io mi ci sono trovato io ci vengo a correre qui più di una volta mi sono trovato con dei camion che non riuscivano a entrarci erano quelli trasporti eccezionali e non riuscivano a entrare qui dentro io con il con il bilico con il rimortio cioè voglio dire ma ci rendiamo conto di che peso in movimento che significa uno di quei mezzi che entra qui fa una frenata nel centro cioè crea una potenza di peso io non so quante tonnellate possa arrivare ad esprimere cioè chi l'ha costruito mille anni fa pensava ci passassero i carri due bovi con un carro con i cavalli cioè non macchine che oggi possano io credo che in movimento in frenata ci sono i mezzi non voglio dire sciocchezze ma tante 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 tonnellate che non può reggerle questo questo ponte Piego ma io dunque in questi 800 anni appunto che che questo ponte diciamo ha visto passare ha visto passare anche me ho fatto un conto così approssimativo l'ho già detto qualche altra volta di circa 70.000 volte ora certamente che quando ho capito effettivamente quello che stava succedendo a questo ponte cioè vale a dire il degrado quindi tutto ciò che non era mai stato fatto perché nessuno si era mai preso cura di questo ponte chiaramente quando passo di qui mi si avvelena un po' il sangue perché non è possibile vedere queste cose cioè e poi non è possibile sentire tante di queste osanne che ci fanno dicendo che qui tu e ora c'è problema qui ora vediamo faremo tutto faremo qui poi i ponti cadono e quindi ecco io pregherei soprattutto i nuovi costruttori i futuri ingegneri i futuri architetti di venire qui e vedere un attimino e studiarlo veramente bene questo ponte per capire come l'avevano costruito perché quelli che sono stati costruiti 50 anni fa cadono stanno cadendo tutti e questo no questo è 800 anni e era stato costruito per farci passare i barocci e i cavalli e invece e invece ora ci passano mi ha detto una persona che ci è passato qui un carico da 680 quintali qui sopra questo ponte e quindi ecco che poi alle fine non succeda niente questo non mi sembra possibile quindi io siccome ci tengo a questo ponte perché io ci sto spendendo la mia vita qui perché effettivamente sono innamorato ci sono nato quindi l'ho attraversato tantissime volte come ho detto e quindi ecco io spero che effettivamente si trovi una soluzione e la soluzione è quella di limitare il traffico ai pesanti di limitarla meno per quanto riguarda arrivare a un certo livello diciamo se parlava di 200 quintali si parlava ecco quindi secondo me questa è la cosa che andrebbe fatta subito poi l'altra cosa è quella appunto di costruire un altro ponte e io ho visto che si stava pensando di fare il terzo a San Giovanni Valdarno e ancora credo che sia in studio quindi ecco io penso che laggiù farebbero uguali anche con due e qui ne facciamo un altro qui allora adesso vediamo la situazione a Ponte Presale che è un'altra situazione diciamo secondo sempre il dottor Cardinali Aghischio siamo andati a vedere e poi entriamo qua è Ponte Presale uno dei grandi sorvegliati proprio in questi giorni da parte della provincia di Arezzo il ponte di competenza regionale ma la provincia ha appunto effettuato alcuni rilievi su questa struttura che è stata costruita negli anni 60 lungo la provinciale 258 la Marrecchiese ci troviamo nel comune di Sestino l'ultimo comune della provincia di Arezzo prima di arrivare in Emilia Romagna questo ponte l'avevamo segnalato precedentemente quello che era successo a Genova lì abbiamo fatto anche uno studio visivo molto particolare perché abbiamo incaricato uno studio che con una macchina diciamo con una macchina fotografica particolare con un braccio snodato ha fatto un reportage diciamo di tutto lo stato di grado del ponte e proprio in questi giorni ci dovrebbe consegnare risultati e ci dà una mappatura delle situazioni su cui bisogna porre un pochettino più l'attenzione indubbiamente lasciarlo in questa situazione diventa cioè per molti anni sicuramente si mette a rischio insomma ecco effettivamente la stabilità per cui programmare un intervento di investimento perché qui si parla di qualcosa come 2 milioni di euro 2 milioni di 2 milioni e mezzo perché ora che andremo comunque dovremo andare a intervenire dovremo fare anche un adeguamento sismico del ponte perché questo nonostante che non abbiamo nessuna documentazione tecnica non è stato progettato tenendo conto della normativa sismica per cui qui c'è un intervento molto importante da realizzare è una strada regionale come ripeto quindi l'investimento lo dovrà fare la regione siamo tornati qui a Ponte Bughiano con Laura Porcellotti responsabile qui del cantiere già abbiamo avuto un po' così una spiegazione mi pare che tutto stia procedendo comunque nel modo migliore per ora si è un cantiere un po' particolare questo perché abbiamo soprattutto da un punto di vista geografico ovviamente che le lavorazioni di fatto sarebbero lavorazioni ordinare se si svolgessero dall'altra parte noi qui oltre il discorso della struttura abbiamo da rispettare il fiume il corso del fiume quindi abbiamo anche delle condizioni naturali da conoscere e da affrontare ecco per il momento il tempo è stato buono non so come sarà per i prossimi per i prossimi giorni ecco come Tempi ci diceva anche l'architetto che siamo abbonatamente all'interno sì i tempi sono stati contrattuali per il momento sono rispettati e ci permettono di finire il lavoro con delle previsioni sì sicuramente sì bene speriamo che il meteo sia comunque continui a essere clemente sì perché altrimenti noi abbiamo delle condizioni per cui se la regione toscana ci dà l'allarme l'autorità di bacino ci dà l'allarme non possiamo assolutamente lavorare sui ponteggi e nemmeno sull'impalcato del ponte per cui di fatto ci dobbiamo bloccare insomma questa è la particolarità del cantiere lui è il custode qui della situazione di Ponte Pugliano potrebbe chiamare anche il sindaco di Ponte Pugliano se esistesse un comune uomo del ponte poi qui si è detto l'altra volta comunque il comune di Arezzo però insomma se ne scordano un po' ma veramente ho parlato in tempi non sospetti di Repubblica di Ponte Pugliano quando l'autorità di bacino ci voleva sommeggere dissi subito se Ponte Pugliano fosse la Repubblica come spero la prima il primo degli elenco degli indesiderati sarebbe il professor Nadi Raffarello che era poi quello che ciò la mette sotto quindi ci puntiamo a fare una Repubblica detto questo comunque siamo qui custodi ovviamente delle nostre civiltà delle nostre tradizioni del nostro ambiente e soprattutto della nostra storia siamo qui per questo qui c'è un evento che c'è chi guarda a sabato questo è il palco dove appunto il maestro Carlo Alberto Neri farà il suo concerto e mi ha detto che porterà anche altri cantanti quindi sarà una bella cosa invece là dove ci sono quelle persone e lì ci sarà una cena una cena sul ponte che probabilmente credo che sia tra le prime diciamo un esperimento che noi facciamo e facciamo volentieri perché vorremmo farlo poi quando il ponte è veramente sistemato ecco e farlo veramente considerando che questo è il ponte dove non ci passeranno più i camion stracolmi di carichi che portano effettivamente a distruzione perché chiaramente io credo che bene non gli fa comunque ecco qui diciamo che il sabato 25 ci sarà questa scena e questo concerto del Carlo Alberto Neri volevo chiedere che ha donato un attimo l'ultima battuta con te sul fatto proprio di limitarlo ai mezzi pesanti ci sono delle previsioni su come poi sarà riaperto questo ponte no attualmente non vi sono delle previsioni ma vanno coinvolti appunto i comuni di Arezzo in primo luogo oltre che la provincia per condividere e far sì che questo ponte venga chiuso ai mezzi pesanti perché il ponte comunque sia all'interno della frazione di Ponte Buriano per cui le competenze all'interno delle frazioni seppur strada provinciale sono dei comuni quindi spetterà l'ultima parola su questo sì ma credo sia interesse di tutti che questo ponte venga chiuso ai mezzi pesanti io non so per quale ragione è ancora aperto insomma a questo tipo di mezzi perché diventa complicato poi garantire al ponte quella necessaria manutenzione quando ci passano da 82 tonnellate 50 tonnellate è un problema mi sembra che così a livello verbale i partiti siano molti d'accordo quindi ecco che diciamo a che sia fatta questa limitazione quindi ecco io credo che bisognerà un po' lavorarci in modo che ma con convinzione però non diciamo così tanto per dire perché chiaramente le cose secondo il mio punto di vista quando si vogliono fare si riesce a farle insomma quindi ecco poi dopo vediamo chi è che si tira indietro perché ora da qui in là è l'ora almeno noi come informazione è l'ora che i politici si scoprano e dicano chi è a favore chi è contro e chi perché qui c'è venuta noia proprio noia dico che ogni volta dopo si rigira secondo di come torna comodo il coltello insomma quindi ecco invece qui bisogna ora prendersi delle responsabilità e dire a un certo punto se questo traffico si ritiene che vada limitato va limitato ecco e ascoltiamo anche Elena Bianchini che è l'architetto dell'impresa allora un giudizio su buonasera come sappiamo abbiamo sentito che insomma procede tutto per il meglio penso per voi sia anche una soddisfazione comunque fare un intervento di questo tipo sì questi tipi di interventi sicuramente anche per il discorso stesso del lustro dell'impresa sono un'occasione importante per farsi conoscere per far vedere come lavorano le nostre squadre come ci impegniamo e come cerchiamo di mantenere i giusti equilibri su un territorio non facile le pressioni sono tante però cerchiamo di andare avanti con tranquillità con serenità di gestire tutte le lavorazioni in contemporanea e quindi organizzare le nostre squadre al meglio che non è facile però cerchiamo di fare il nostro meglio come abbiamo sempre fatto e come abbiamo fatto nella prima fase comunque dei lavori quante persone ci lavorano l'abbiamo detto ripetiamolo sono da sette otto dieci varie non dipende dalla giornata le giornate non sono tutte uguali però quando possiamo appunto approntare più rostri in contemporanea si cerca di avere il nostro capocantiere che dirige come un bravo maestro d'orchestra tutti gli strumenti qui siamo siamo tornati in un altro siamo ritornati in un altro dei rostri in cui stiamo intervenendo è il rostro numero 3 a valle la caratteristica di questo rostro è che abbiamo notato anche in questo soprattutto la mancanza di completa di ammorsamento nei due maschi murari che terminano in questa cuspide ed un'enorme frattura che arriva fino al basso la caratteristica quando siamo andati ad aprire questo rostro che l'abbiamo scavato per arrivare al famoso blocco di Malta Militare abbiamo trovato radici di quelle dimensioni lì queste radici sono grandi quanto un braccio quanto è più di un braccio sotto sappiamo esserci un dedalo di radici di questo di questo genere impressionante infatti dobbiamo intervenire per radicalizzare tutta la zona e la radice è la radice di quella pianta che noi avevamo un paio di anni fa avevamo eliminato è ritornata ha buttato giù il paramento esterno del muro rimanendo solamente il muro interno un piccolo diaframma interno cosa dobbiamo fare noi è una sommurgenza che faremo parimenti a questi lavori dobbiamo eliminare questa pianta intervenendo dall'alto ricostruire tutta la parte del muro e possibilmente cercare di togliere tutte le radici interne la pressione che fanno queste radici queste piante sui timpani è estremamente importante se viene giù anche il secondo muro interno a quel punto si scarica la terra viene giù si scarica come sempre l'arco e di conseguenza l'arco non ha più la sua funzione portante bisogna chiudere il ponte e questo lo dobbiamo fare in una tempistica piuttosto breve ricostruendo da certosino tutto il muro non è che possiamo fare un lavoro con un getto di cemento con dei blocchi qualsiasi bisogna ricostruire pietra per pietra tutto il lavoro e dobbiamo fare tutti questi interventi entro ottobre entro la prima metà di ottobre perché perché dopo inizia a risalire l'arno e è impossibile lavorare in alvio tutto questo per mettere in sicurezza il ponte e far sì che il ponte sia ancora agibile al traffico perché in questo momento non è solo un monumento storico importante e di grandissimo pregio ma è anche l'unico diciamo manufatto che ci consente di andare dalla zona del Val d'Arno superiore verso Arezzo e la chiusura di questo ponte come avete sentito sta creando dei disagi non indifferenti in tutta la popolazione noi bisogna oltre a questo che è un intervento non secondario andare a rismontare anche l'altro rostro che è il rostro numero 2 che presenta delle lesioni importanti sia a valle che a monte qui come si vede vediamo una importantissima lesione si vede dalla mano si vede dal distacco del rostro a valle si è aperto completamente tutto questo si è aperto perché la famosa spinta del terreno esercitato grazie al volume di traffico elevato non previsto quando è stato fatto ovviamente il ponte questo qui è il grande peso del traffico spingendo il terreno piano piano ha fatto allentare la muratura infatti vedete che è tutta completamente allentata noi dobbiamo smontare tutto questo rosto e rimontarlo questo è uno dei motivi per cui noi non possiamo aprire il traffico mentre si fanno questo tipo di lavorazioni perché vorrebbe dire mettere in crisi completamente tutto il ponte diversamente appena abbiamo ultimato questi quattro rosti che sono quelli maggiormente che hanno maggiori difficoltà potremo intervenire su altri che non hanno queste criticità potremo lavorare con il ponte aperto a un traffico ovviamente minimo leggero che può percorrere il ponte senza problemi ma solo ed esclusivamente nei rosti che non devono essere aperti tutti quelli che come questi devono essere aperti bisogna intervenire solo ed esclusivamente a ponte chiuso per motivi che voi avete visto ovviamente e che spero i cittadini di Castionfibocchi i cittadini di Ponte Brugliano che devono passare a queste zone capiscono che è un intervento fondamentale anche perché se noi non interveniamo in questi rostri in tempi brevi il ponte dopo diventa realmente inagibile e a questo punto quelle che sono momentaneamente delle vie alternative diventerebbero per anni delle vie le uniche vie per arrivare a Rezzo noi ringraziamo davvero di cuore l'architetto Pierangelo Casini che ci ha fatto entrare nel cuore nel cantiere che ringraziamo anche l'impresa per la collaborazione complimenti davvero si chiama l'impresa? L'impresa è Barone Luca io sono il capo cantiere Gange e Salvatore complimenti per la dedizione con la quale il cantiere è un artista perché lui è l'artista che realmente sta manualmente facendo questo intervento e come vi ripeto non è un intervento di mera muratura ma è un intervento di restauro perché è importante capire che questo non è un intervento di recupero è un intervento di restauro e risanamento conservativo quindi loro stanno restaurando il restauro in strutture del genere è anche un consolidamento importante è questo che le persone devono capire noi facciamo un consolidamento passando da un restauro ed è questo il punto bene grazie a tutti grazie all'architetto dopo la pausa cambieremo argomento attra poco grazie a tutti